Ma la sentite anche voi la brezza che sta già soffiando per il campionato di Serie A è proprio la bellezza del calcio, quella che tu riesci con un calendario che viene sfornato a immaginare il percorso di un anno intero. E' proprio così perché tu aspetti il calendario, vedi le partite che succedono e inizi a programmare quale può essere la vittoria, quale può essere il periodo migliore e quale può essere la grande difficoltà, almeno sulla carta, che finisce per essere un elemento dettato da quelle che sono le variabili che sono conosciute. Quali sono le variabili conosciute? Il fatto che noi sappiamo che sono delle squadre che sono tendenzialmente forti e ne ipotizziamo delle altre tendenzialmente deboli, variabili assolute che nel calcio non contano assolutamente niente. Perché poi le squadre che devi affrontare le devi affrontare tutte e questo vale per qualunque squadra. Ma a determinare la difficoltà non è certo la sistemazione nell'arco del tempo, è piuttosto lo stato di forma, e quindi una variabile non controllabile, delle diverse squadre. E come, peraltro, lo stesso tuo stato di forma si predispone per poterle affrontare. Stato di forma e stato psicologico. Perché se andiamo a vedere, ad esempio, una matricola che tu affronti ad inizio campionato, certamente la condizione mentale è decisamente positiva rispetto a quella che potrebbe essere la predisposizione mentale a metà campionato. Quando la squadra ha cominciato a prendere visione delle grandi difficoltà e magari non ha più quella spinta che ha avuto, invece, attraverso la promozione dell'anno prima. Insomma, guardiamo il campionato e guardiamolo con la lucidità dovuta. Perché comunque sia c'è un aspetto, che è quello che al Cagliari non è capitata mai una serie di squadre favorite superiori a due partite di fila. Sono sempre due e poi una partita apparentemente abbordabile. Anche se sappiamo che le partite apparentemente abbordabili non sempre lo sono nella realtà. C'è un dettaglio invece storico che è meglio non utilizzare, perché non è assolutamente profetico. Il Cagliari ha iniziato il campionato una sola volta contro il Sassuolo, il 31 agosto del 2014, in una partita che finì 1-1. L'allenatore è Zeman, ma non pensate a come andò a finire, perché poi è un pensiero negativo e se lo fate è preferibile farlo, andando a prendere i dovuti scongiuri, perché quel campionato, 2014-2015, il Cagliari lo perse, finì per retrocedere. Quindi speriamo che non centri niente con quello che stiamo per iniziare a vivere. Invece l'ultima col Genoa non è mai esistita nella storia del Cagliari. Mai una volta in Serie A il Cagliari ha affrontato il Genoa all'ultima giornata. E questo può essere un dettaglio invece importante, almeno non associabile a quello che è l'inizio del campionato. Di certo c'è bisogno di una cosa, che si sia pronti alla partenza, perché nessun punto può essere lasciato per strada.